Una sfida epica, Davide contro Golia, la nazionale di San Marino affronta i campioni del mondo della Germania in un match valido per le qualificazioni ai mondiali di Russia 2018. Per i ragazzi di Manzaroli un avversario fortissimo e terribile che dieci anni fa, il 6 settembre 2006, castigò i sanmarinesi vincendo 13 a 0. La peggior sconfitta di sempre per la squadra della Piccola Repubblica è lo scarto più ampio mai registrato in una gara di qualificazione agli europei. Il Cittim Manzaroli è perfettamente consapevole dei limiti della sua squadra ma crede nel progetto. Siamo 30.000 abitanti, non concediamo naturalizzazioni, siamo sempre noi, la scelta è sempre limitata, però sulla programmazione, sul modo di lavorare ci stiamo avvicinando sempre di più a una professionalità che è necessaria per cercare di garantire partite quanto meno credibili. I tedeschi dal canto loro tornano nel più piccolo degli stati d'Europa da campioni ridati in carica e faranno a meno del super portiere capitano della nazionale Neuer. Matteo Vitaioli, rientrato dopo la squalifica e forte dei buoni risultati ottenuti dalla squadra, guarda con realismo e speranza la partita. Quando si pareggia come l'Estonia qua in casa l'anno scorso biegno oppure si fa gol come in Norvegia oppure anche in Lituania che avevo fatto gol e abbiamo tenuto il pareggio sull'1-1 fino al novantesimo comunque sono delle cose che rendono molto più orgoglio rispetto a una nazionale perché un'altra nazionale magari è abituata a vincere e perdere e a pareggiare. La nazionale di San Marino ce la metterà tutta per non sfigurare e tirare fuori le unghie e i denti. Grazie.